Buongiorno a tutti, siamo al Politecnico di Milano per il JRP Forum, la presentazione del secondo rapporto di questo organismo creato dal Politecnico che si occupa di studiare e pensare l'ospedale del futuro. Abbiamo qui con noi il professor Ferruccio Resta, che è il presidente della Fondazione Politecnico di Milano e gli vogliamo chiedere cosa significa per il Politecnico questo organismo di ricerca che intende unire in prospettiva istituzioni e aziende private per migliorare l'assistenza sul territorio anche dal punto di vista infrastrutturale. Buongiorno a tutti, innanzitutto chiariamo, naturalmente si parte dalla ricerca ma si arriva immediatamente a delle buone pratiche che si possono realizzare per disegnare l'ospedale del futuro, perché è di questo che stiamo parlando. L'ospedale del futuro che parte dall'architettura, un'architettura funzionale, un'architettura modulare. Quante volte siamo entrati in un ospedale e abbiamo trovato delle strutture obsolescenti che mal si prestavano a cogliere quelle che sono le esigenze del paziente, dei familiari del paziente e soprattutto del personale sanitario. Allora lì bisogna integrare architettura, spazi, tecnologie e soprattutto per delle strutture che sono resilienti, che sono in grado di cambiare nel tempo. L'abbiamo dimostrato come in questi ultimi anni abbiamo da capire che gli spazi devono essere pronti a rispondere a delle esigenze. Naturalmente non si fa in un'aula universitaria, si fa attraverso un'alleanza, un patto che parte dalla responsabilità di avere un progetto pronto da mettere sul territorio. E per fare questo abbiamo bisogno di tutta la parte di regolamentazione. Oggi parlavamo proprio di normative uni che in qualche maniera disegneranno lo scenario dell'ospedale del futuro. Abbiamo bisogno dei tecnologi, abbiamo bisogno di architetti, abbiamo bisogno delle aziende sanitarie del territorio, grandi ospedali, di strutture medio piccole, abbiamo bisogno delle imprese che naturalmente devono fare il business, devono fare il loro business per essere sempre all'avanguardia. Tutto questo quindi è una piattaforma, una piattaforma in cui ognuno contribuisce con le proprie competenze, con le proprie conoscenze per avere un libro che è un progetto reale dell'ospedale del futuro. Grazie professore. Grazie a voi.